Iara propone nuovi strumenti tecnologicamente avanzati per sviluppare nuovi piani di concimazione e sostenibili. Noi che siamo clienti partner di Iara stiamo sviluppando anche noi con i nostri clienti metodi di concimazione e di nutrizione sostenibile con i nostri clienti agricoltori. Questo è l'ultimo strumento proposto da Iara. Grazie a tutti.